L'azienda Piero della Valentina realizza pavimenti belli e funzionali, perché la casa possa diventare un'opera d'arte da vivere. I pavimenti di legno si distinguono per la bassa conducibilità termica, un ottimo isolamento acustico, resistenza all'usura e facilità di pulizia. Il legno può essere un piccolo capolavoro, nel quale le pennellate sono le sue venature inventate dalla natura. Piero della Valentina sa dove trovare questo tipo di legno, sa come e dove tagliarlo, pulirlo, trattarlo ed essiccarlo, in modo che la sua bellezza sia ancora più evidente.